Il settore auto è in crisi e ne fa le spese anche tutto l'indotto. Secondo i dati dell'osservatorio sulla componentistica redatto da Anfia e Camera di Commercio di Torino, se nel 2023 l'intero comparto, che in Italia vale quasi 60 miliardi di euro, con 2.135 imprese che danno lavoro a 170.000 persone, a retto le stime per il 2024 preoccupano e parecchio. I numeri parlano di un meno 32% di fatturato, in calo del 40% gli ordini interni e del 30% quelli esteri. Il 2035, anno dello stop in Europa della produzione di motori a combustione, si avvicina e regna ancora l'incertezza negli acquisti delle auto elettriche. Il consumatore è disorientato, fa fatica ad affrontare la spesa, che è altissima, fa fatica orientarsi davanti all'obbligo di comprare un prodotto che gli dà delle difficoltà aggiuntive dal punto di vista della ricarica, lo mette davanti a dei problemi invece che risolverli. Possibile uno slittamento del 2035? Quella data oggi è fuori obiettivo ed è chiaro che anche la curva più ottimistica di recupero da oggi ci fa vedere che quella data è lontana a livello europeo di almeno 3-4 anni e non abbiamo ancora, come dire, concluso il 24 e affrontato quello che accade nel 25. Come riflesso di questa incertezza, ben il 34% delle imprese dell'automotive sta cambiando il modello di business e il 12% addirittura sta valutando concretamente di abbandonarlo per riconvertirsi ad altro. Lo si vede bene in Piemonte, che da solo vale un terzo di tutto il settore in Italia. La loro riconversione probabilmente andrà orientata su tutti quegli altri settori e specificità che nel nostro territorio ci sono, dall'aereo e spesso al medicale e nel nostro territorio c'è anche la nautica, tutti altri settori dove nella manifattura siamo l'eccellenza. Che cosa si perde? Conoscenze, tecnologia, storia, cultura di quello che è l'ambito automotive. Massimo Postiglione, Sky TG24, Torino.